Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, Chiburi e l'invasione dei Pleco Centavo, dell'episodio numero 11. La verità sui Pleco. Una volta che Chiburi e la sua squadra furono arrivati da Archimede, essi seppero da Dario che Babbuino era riuscito a sincronizzarsi molto bene con la spada. Felici, deciso di organizzare una festa per inaugurare la bravura di Archimede. Tuttavia, durante la festa, arrivò da Chiburi Arturo, l'orice, che disse Ciao Chiburi, è molto che non ti vedo in giro. Sai, ho scoperto la specie che appartengono ai Pleco. Essi sono dei Plecus Tomus Centaurus. Non sono affatto dei normali pesci ventosa, poiché ho saputo da un romastic egistiano il loro passato. Dunque, tanto tempo fa, dovete sapere che i nostri Pleco erano dei normali pesci ed erano allevati con cura dal faraone Nestrit, fino a quando Amir, uno schiavo geloso del successo del faraone, non fece un esperimento ai Pleco, allo scopo di farli diventare perfino un pericolo per il faraone, Nestrit, per poter prendere il suo posto. Tuttavia, egli non riuscì nella sua impresa. Anzi, per la disperazione fuggì dall'Egitto, rifugiandosi in Alessandria. Però non sono venuto qui per potervi raccontare solamente la verità sui Pleco, ma sono qua anche per comunicarti di non fare uso della spada, poiché essa è vecchia, e utilizzarla porterà solo guai. Perciò ti supplico in ginocchio, Kiburi, riportala dove l'hai trovata. Kiburi, non capendo il motivo per cui la spada dovesse portare guai, domandò ad Arturo, Ma Arturo, perché non dovremmo usare la spada? Essa è l'unico mezzo che abbiamo per sconfiggere i terribili Pleco. Perché dovrei riportarla indietro? Arturo rispose, Ascolta, Kiburi, il problema è questo. Essi vogliono risocchiare i poteri della spada, come hanno già fatto con il cristal sombra. Però hai ragione, Kiburi, non si può affrontare il Pleco Centauro con mani vuote, e ciò ti ho portato questa spada di plastica. Così, anche se la drenirebbero, essi verranno sconfitti e verranno ripristinati, tornando in occhi. Non preoccuparti, porterò io stesso la spada di Nestri dal suo posto. Ciao, Kiburi, Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie alla prossima. Ciao da Davide. Ciao.